la quale abbiamo fatto seguito con una lettera indirizzata al Ministro Minniti per sollecitare un intervento dello Stato per i porti in legalità e sicurezza per chi si trova ad operare sul territorio. Tentare di impedire il regolare svolgimento dell'attività di incoglienza con atti criminali di violenza è un atteggiamento ad un po' contuso e antistorico. L'arrivo nelle nostre regioni di migliaia di emigrati stranieri ha trasformato la nostra società in multietnica, multiculturale e multirevigiosa. Il fatto è incontrovertibile e non dia possibilità di ritorno a posizioni pergresse. La conseguenza è che il nord e il sud del mondo, l'Oriente e l'Occidente si fronteggiano a Gordini e le nostre città. L'Occidente oggi si trova a sperimentare parecchi problematiche di l'inite. Le nostre vecchie comunità devono tentare di risolvere queste nuove sfide mentre al contrario il progetto è un'attività di un'attività di un'attività di un'attività.